Disappunto e anche un po' di rassegnazione da parte di tutti coloro che nelle ultime ore si stanno recando all'ospedale Fatebene Fratelli di Erba dove da alcuni giorni campeggia un cartello che preannuncia la sosta a pagamento dal prossimo 15 settembre, una vera e propria scure che si abbatterà su coloro che per forza di cose devono raggiungere l'ospedale anche più volte al giorno. Riqualificato nel suo aspetto, il parcheggio ha visto la realizzazione di una nuova rampa d'accesso e l'installazione di barriere e di una cassa automatica. Quindi dal 15 settembre ad attendere coloro che sono costretti a raggiungere l'ospedale non ci saranno solo i multivendituri ambulanti ma anche un bel ticket. Grazie a tutti!